Maria Della Revisore-Poletica Cristina Bufiare-Poletica Cristina Bufiare-Poletica Oggi vi parlerò d'amore. Dell'amore di coppia, che ci aiuta a crescere insieme e non ci fa avere paura dei sentimenti. Un noto proverbio dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E se invece del mare nel mezzo ci fosse il provare? Per questo vi racconterò cosa ho scoperto in questi 35 anni di lavoro clinico con le coppie e poi deciderete voi cosa provare. Ma come è cambiata la coppia che incontro in tutti questi decenni? Diciamo che in linea di massima dall'85 al 95 la coppia portava soprattutto problematiche relative all'educazione dei figli e alla gestione delle famiglie d'origine, che resta pur sempre un evergreen. Però il punto era quello di tenere unita la famiglia a tutti i costi, nella buona e nella cattiva sorte, anche a scapito della felicità dei partner. Dal 95 al 2005, sempre in linea di massima, il riflettore si è spostato sulla necessità di una realizzazione personale e professionale dell'individuo. Realizzarsi è giusto per carità, ma questo ha messo ancora sullo sfondo la coppia, che, novella cenerentola, è diventata ancora più fragile ed evanescente. Invece, negli ultimi 15 anni, sotto lo stress, le pressioni lavorative, la necessità di essere performanti un po' su tutti i piani, la formazione, soprattutto la durata della coppia, è diventata ancora più difficoltosa. Come ha osservato Bauman, attualmente siamo un po' tutti combattuti, siamo ambivalenti, tra il desiderio di sicurezza, che si può ottenere attraverso una relazione stabile, e il desiderio di libertà, che si ottene meglio rimanendo da soli a inseguire la propria felicità. Soprattutto le generazioni che sono uscite dalla famiglia senza necessità del matrimonio, oppure le persone che hanno già avuto una relazione sentimentale, raggiungono una sorta di equilibrio, che difficilmente mettono in discussione quando arriva all'orizzonte un amore. Nei casi estremi proprio di rifiuto dell'amore, Ghezzani ha parlato di anoressia sentimentale. E invece quelli che vogliono provare a mettersi in gioco, in coppia, devono essere proprio degli acrobati, perché devono mettere insieme gli interessi di entrambi, magari gestire due case, due gruppi di amici e a volte anche due diete differenti. E poi, ultimo ma non ultimo, devono tenere acceso il desiderio sessuale. Cosa non semplice se pensiamo che le ultime ricerche ci dicono che quattro coppie su dieci coppie stabili, definite coppie bianche, rinunciano completamente alla sessualità. E forse vi stupirà sapere che sono soprattutto gli uomini ad accampare il famoso mal di testa. In questo aggiungiamo un ultimo ostacolo, che in questo periodo di narcisismo imperante, tutto ci porta ad evitare ciò che può far soffrire, ma anche solo qualcosa che può comportare l'odore del fallimento. Per cui si evita di parlarsi per non entrare in conflitto, si bypassano gli attriti per non fare la fatica di scioglierli, si evitano i sacrifici scegliendo strade anche più semplici, e soprattutto si sopprimono i sentimenti per la paura di soffrire. ma la soluzione forse non è né stare sempre soli e neanche cambiare continuamente partner, perché se non abbiamo compreso cosa non ha funzionato dentro di noi, ripeteremo lo schema all'infinito. E poi, se ci pensiamo per nessuna relazione, c'è una garanzia, e smettere di amare per paura di essere feriti, traditi, delusi, sarebbe un po' come smettere di mangiare, perché sappiamo che dopo qualche ora avremo ancora fame, oppure non vivere, perché tanto sappiamo di dover morire. E invece, proprio oggi, che i sentimenti sono messi sullo sfondo come uno scomodo intralcio, la coppia può essere proprio una grande palestra per la crescita emotiva di entrambi i partner. Non importa chi dei due cade in crisi per primo, basta che entrambi lo vogliano, desiderino di affrontare la sofferenza, invece di evitarla, per uscire dallo stallo. Per addentrarci nella vita delle coppie, ho preparato per voi quattro sintetici affreschi delle coppie che ho incontrato più frequentemente. E chissà se vi riconoscerete. I compatibili. In questo incastro perfetto è come aver trovato proprio l'altra metà della mela. Uno è l'adulto serioso, l'altro è il bambino giocoso. Uno vuole sempre insegnare, e l'altro vuole sempre imparare. Uno combina sempre guai, e l'altro immancabilmente glieli risolve. Questi ganci sono collegati a aspetti dell'infanzia di entrambi i partner. Ma cosa succede se qualcuno volesse cambiare ruolo? Ad esempio, se chi combina sempre guai volesse cominciare a risolverseli da solo, e la coppia andrebbe in crisi. Perché cambiare ruolo sarebbe quasi come perdere l'identità. I pacifisti. Questi partner sono invece coalizzati contro un mondo che ritengono cattivo e foriero di tensioni. Per cui, anche se hanno bisogno di aiuto, piuttosto implodono, ma non chiedono aiuto. La paura è che un attrito, anche molto piccolo, possa incrinare o addirittura rompere la relazione. Per questo i partner sminuiscono, negano tutto ciò che può creare tensione. E anche le famiglie d'origine, gli amici, se creano tensione, vengono pian piano allontanati. Solo che tutta questa polvere messa sotto al tappeto da una parte assicura la stabilità, però impedisce al nuovo di entrare nella relazione. e soprattutto non permette alle crisi di essere utilizzate come leve per il cambiamento. Gli esploratori. Il mondo è un luogo pieno di cose piacevoli da fare, viaggiare, uscire, andare, venire. E anche lo stimolo del nostro tempo ci spinge a consumare esperienze senza soffermarci troppo sull'interiorità della coppia. E la ricerca del piacere in queste coppie all'inizio è molto entusiasmante, solo che col tempo diventa quasi spasmodica e non dà mai veramente la soddisfazione. Questi partner dividono i loro interessi con gruppi di persone e non esitano a trovare amici più giovani man mano che la loro età avanza. Quindi splendidi compagni di avventura molto difficilmente si mettono a nudo l'un l'altro e quindi coltivano poco l'intimità della coppia. La coppia imprenditori. Queste ultime due sono coppie più moderne. E qui è come incontrare qualcuno che come noi condivida il desiderio di sacrificarsi per creare casa, per fare carriera, per avere dei figli. Per cui il tempo è tutto programmato, sia il tempo quotidiano che il tempo negli anni, è programmato sin nei minimi dettagli. Questa apparente, diciamo, sicurezza in realtà è schematicità. È proprio uno schema molto ferreo che impedisce di accedere a tutto il bello, a tutta l'imperfezione umana. Questa situazione delle coppie era già abbastanza complessa. Poi è arrivata la pandemia. Immaginate che fatica hanno fatto gli esploratori a non poter più trovare all'esterno la fonte del loro piacere e a trovarsi bloccati in casa. Oppure gli imprenditori che hanno dovuto congelare per un tempo indeterminato i loro progetti. O magari i pacifisti che già spaventati degli attriti del mondo, dopo il lockdown, hanno fatto più fatica a rinserirsi perché hanno vissuto l'esterno come ancora più pericoloso. Mi piacerebbe sapere se vi siete riconosciuti almeno in alcuni tratti. Sì, perché in effetti per creare una coppia sana c'è qualcosa da imparare da ognuna di queste coppie. All'inizio è importante riuscire a creare un incastro perfetto, avere dei ruoli che siano ben incastrati come sanno fare i compatibili. È altresì fondamentale saper abbassare la tensione quando eccessiva come sanno fare i pacifisti. Durante tutta la relazione è importantissimo mantenere un tempo di divertimento, un tempo leggero, così come a un certo punto è inevitabile programmare il futuro, avere dei progetti, fare qualcosa insieme. Quindi, che cos'è che non funziona? Come ha teorizzato Luigi Baldascini, è la fissità in una sola di queste configurazioni che alla lunga ci fa star male, ci fa sentire insoddisfatti anche della vita di coppia. Al contrario, la mobilità tra tutte queste configurazioni ci aiuta a diventare persone di spessore, persone felici di essere in coppia. Quindi, una coppia sana è una coppia elastica e mobile e per questo ho pensato di chiamarli i trapezisti. I trapezisti sono consapevoli del rischio di cadere che hanno ogni giorno, ma non vengono annientati da questa paura perché sanno di poter godere di una rete di protezione che non è costituita dalle altre relazioni significative. Non si aggrappano all'altro, ma volteggiano sicuri nell'aria, certi della presa che si scambieranno al momento giusto. Negli anni migliora l'autostima di ciascuno perché grazie all'amore reciproco migliora l'amore per sé. E poi sono acrobatiche che ne vedono veramente tante, di tutti i colori, sono molto resilienti e insieme si aiutano ad aumentare il senso di fiducia nei confronti della vita. In maniera del tutto soggettiva ho individuato cinque ingredienti che non devono mancare a due partner che aspirino a diventare trapezisti. Vediamoli insieme. Il primo prezioso ingrediente è la creatività. I trapezisti considerano la coppia un'opera d'arte viva e quindi è sempre migliorabile. È imperfetta, ma questo ne aumenta la bellezza, per cui dedicano cure e creatività al legame e non dimenticano mai la potenzialità che avevano intuito all'inizio del loro incontro. L'attenzione costante. Sappiamo bene che all'inizio di una relazione la nostra attenzione verso il partner è al massimo. Poi la quotidianità porta a un certo rilassamento, ad esempio proprio nella vita sessuale, che scolorisce, finisce un po' sullo sfondo se non ci sono due persone attente a prendersi cura. Per questo i trapezisti non danno mai l'altro per scontato e sono sempre grati quando i loro corpi si intrecciano in aria. L'amicizia. L'amicizia è alla base delle coppie che superano la prova del tempo, perché è come sapere di poter sempre contare su qualcuno. Però un amico, un alleato, può essere anche molto diverso da noi. e siccome il trapezista si fida del suo alleato, invece di difendersi dalla diversità, l'accetta e si fa contaminare. Solitudine come nutrimento. Quando il partner non ci coinvolge in tutte le sue cose, ci possiamo sentire esclusi. Invece, un trapezista ha fiducia dei momenti di assenza del partner e li utilizza per allenarsi e per nutrirsi di ingredienti che poi riporterà in maniera come in un circolo virtuoso con gioia all'interno della coppia. Ultimo ma non ultimo, essere sponsor della felicità dell'altro. Un buon trapezista sostiene il partner nei cambiamenti personali, perché non ha paura di perderlo. Questo elemento a volte scatta inconsapevolmente e noi non ci rendiamo conto di ostacolare l'altro nella sua felicità. Però diciamo che essere sponsor della felicità dell'altro è forse il parametro più difficile, però è fondamentale per una vita di coppia soddisfacente. Quindi, la coppia oggi è in crisi. Tutte le statistiche le sono contro. Non ci sono garanzie per la sua durata e abbiamo paura di essere feriti, traditi, delusi. Ma proviamo a correre il rischio di amare e di essere amati, di investire in una relazione sentimentale, perché non c'è modo migliore di evolvere che farlo in una coppia di abili trapezisti. Grazie. Applausi